Musica Lunedì 3 aprile 2023, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana dalla redazione di Teleregione in apertura della nostra rassegna stampa. Abbiamo un servizio, comunità energetiche di Olic Offshore, senza dimenticare gli impianti di produzione ad idrogeno al centro di un convegno tenutosi sul Catamarano Zenit della GS Travel. Il servizio. Comunità energetiche di Olic Offshore, importante convegno a bordo del Catamarano Zenit della Guidotti Ships. Il convegno dal nome Blue and Green Sea per confrontarsi sulle comunità energetiche, Olic Offshore, rimpianti di produzione di idrogeno tenendo sempre al primo posto la tutela del mare e la sua valorizzazione. Nella nostra attività facciamo ricerca marina dallo stretto di Messina a Ravenna e quindi siamo impegnati in tutte le attive di ricerca marina. Mi sembrava giusto fare un chiedere alla scuola industriale che ringrazio pubblicamente per una presentazione fatta ai ragazzi su cosa è l'energia rinnovabile in mare. Dopodiché ci sono degli esperti che parleranno sulle comunità energetiche portuali, esperti che parleranno sulle meteoraggi ambientali e si parlerà delle rinnovabili in mare, tutto quello che possono essere i pregi e i difetti, parlando anche degli operatori della pesca, del turismo, parlando con tutti quelli che possono dare un loro contributo reale, testimonianze vere, su tutto quello che può dare di positivo. Questo perché? Perché siamo da vecchia generazione, cerchiamo di parlare sul campo, su quello che esiste. Ma qual è la posizione della regione sull'eolico offshore? La nostra vocazione turistico commerciale da questo punto di vista ci impone un'attenzione particolare, anche se questa è l'autorizzazione di competenza dello Stato. Quindi la regione presiderà affinché il rispetto del nostro territorio sia assoluto e naturalmente non sarà d'ostacolo rispetto alle iniziative che pure devono essere considerate, ma che non possono stravolgere la nostra vocazione. E poi abbiamo una notizia monta a 2,3 milioni di euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Campobasso e dalla SEA per tre progetti che consentiranno di migliorare la raccolta differenziata. Con i fondi concessi dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza sarà possibile potenziare il centro di raccolta di Santa Maria de Foras, oltre 500 mila euro destinati per questo progetto. Il secondo invece finanziato per un importo di 789 mila euro e per la fornitura di eco-isole e sistemi di videosorveglianza per l'ottimizzazione della raccolta differenziata. Consentirà di acquisire 26 ecostazioni intelligenti. Nello stesso progetto, inoltre, sono previsti anche sistemi di videosorveglianza. Un altro progetto ammesso per un importo di un milione di euro è quello dei cestini intelligenti. Ne saranno installati 165 alimentati ad energia solare. Ed iniziamo la nostra rassegna stampa. Come di consueto partendo dal regionale primo piano molise, nel taglio alto troviamo la politica. Il centro-destra punta a liste forti, avvistari distratti dalla leadership. La coalizione di Lotito Eco interpreta al meglio la legge elettorale. Ogni preferenza raccolta dagli aspiranti consiglieri va attribuita al candidato presidente. Vince chi totalizza un voto in più. Gravina convince il campo largo, ma la lotta nei 5 stelle sta lasciando Federico con il cerino in mano. Poi le altre notizie, sempre nel centro pagina, al 118 di Agnone fino a venerdì senza medico durante la notte. Dei 4 in servizio, 2 dovranno coprire i turni di Sernia. Saia chiede udienza a gollo, Paglione invoca invece la rivolta popolare. Nel taglio laterale al Veneziale, al netto di colpi di scena, oggi si insedia in reparto il prof. Campobasso, gestione dei rifiuti, 2,3 milioni dal PNRR, l'avete sentito anche in apertura della nostra rassegna stampa. Poi Santa Croce denuncia la scomparsa di una sessantenne, ricerche attualmente in corso. Termoli, cassiera licenziata nel 2015, la Cassazione dopo 8 anni dichiara illegittima la procedura. Nel fondo pagina, patologie gravi in aumento in Italia. Prima in Italia nasce in Molise la rete dei dottori Sentinella per l'ambiente allo scopo di definire il profilo di rischio delle persone e della comunità. Nel taglio laterale invece, come sempre, il punto a firma di Pasquale Damiani, ecco gli invitati al tavolo presidenziale. Nel taglio alto invece lo Sport Serie D, il Termoli muove la classifica, 0-0 con la Samb, Vasto Girardi, K.O. con Matese, eccellenza, l'Isernia vince, a Guglionese resta meno 2 dal campo basso, Alto Casertano invece a Valanga. Calcio a 5, Cusla, Nebbia, Molise a segno sul difficile campo della Roma, finisce 2-4. Ancora i quotidiani regionali, questa volta con quegli abruzzesi, partendo con la prima pagina del centro. Nel taglio alto, strage in famiglia, indagini sulle armi, l'Aquila, verifiche su permese certificati rilasciati al medico, oggi veglia per le quattro vittime. Ancora nel centro pagina, Abruzzo, fare la spesa costa di più, stangata sulle famiglie a causa dei rincari, l'inflazione in regione è a 6,6%. Migliora invece il bimbo ferito, Celano, nel taglio laterale, l'addio alla mamma precipitata dalla finestra. Le grandi opere per la città, Pescara, in arrivo nuovi cantieri, al via entro l'estate. Ancora i quotidiani regionali abruzzesi, questa volta con la prima pagina d'Abruzzo del messaggero. Nel taglio alto, Pescara, travolgente, ma Zeman vuole di più. Poi nel centro pagina, 5, i colpi della strage, queste le pallotte repartite dalla pistola del primario in pensione Carlo Vicentini per uccidere i due figli, la moglie e togliersi la vita. Oggi le autopsie per cercare di avere il quadro completo. E poi nel centro pagina, 6 aprile 2009, l'anniversario, le grandi incompiute dopo 14 anni. Il punto delle opere incompiute a 14 anni da quel terribile 6 di aprile. Celano, nel taglio laterale, donna suicida. L'ultimo saluto con la banda. Nei quotidiani regionali ci spostiamo adesso con quelli nazionali, partendo come sempre con la rittura della prima pagina del Corriere della Sera. Nel taglio alto, Migranti stretta sui permessi. Domani il vertice, reddito, attacco all'Olo Brigida. Non è svilente lavorare la terra, ma stare sul divano. Le scelte di Palazzo Chigi. I nove punti dai rimpatri ai centri di accoglienza. Poi le altre notizie. Nel taglio laterale, la guerra, il piano di Kiev per la Crimea, attentato in un bar a San Pietroburgo, ucciso un blogger russo. Nel centro pagina, lo sport. I rossoneri vincono 4-0. E ora la sfida internazionale. Milan da Champions. Travolto invece il Napoli. Dal Corriere della Sera, uno sguardo anche alla prima pagina della Repubblica. Nel taglio laterale, un morto e 25 feriti. Sempre riferito all'attentato di ieri di San Pietroburgo. Poi ancora le altre notizie. Nel centro pagina, PNRR a rischio. Corsa contro il tempo. Il piano del governo, i progetti in ritardo trasferiti su altre voci di spesa europea. Repower e Unione Europea. Affundi di coesione strutturali. Entro fine aprile, la revisione del recovery in Parlamento. Mattarella ha ricevuto Draghi prima dell'incontro con Meloni. L'orlo brigida sul reddito vada nei campi. Chi sta sul divano. Poi le idee nel taglio laterale. Il peccato della destra, reticente sul fascismo. Il caso nel fondo pagina. Le donne laiche ora superano quelle religiose. Dalla Repubblica, uno sguardo anche alla prima pagina del messaggero. Nel taglio alto tasse bonus a chi è in regola. L'intervista a Leo del MEF. La riforma attirerà gli investitori esteri spaventati dalla burocrazia. Previsti premi per chi accetta il patto con il fisco e riduzione alle imprese che assumono. Ancora Schifani, l'energia solare resta in Sicilia. Urso, il biocombustibile green, le batterie elettriche. Invece non lo sono. San Pietroburgo ha tentato nel bar una statuetta bomba per Tatarsky. Ucciso il blogger, amico di Putin. Nel centro pagina allo sport, che approfondiremo successivamente sulla gazzetta. Poi nel taglio laterale, aggressioni ai prof. I presidi dovranno segnalare le violenze. Piano di Valditara per tutelare gli insegnanti, il governo sarà parte civile in caso di processo. Dal messaggero, uno sguardo anche alla prima pagina del tempo. Nel taglio alto, governo al lavoro sui migranti d'Italia fatta sì. L'Europa sa solo parlare, ma gli sbarchi continuano. E serve intervenire subito, piano per aumentare e incentivare i rimpatri, più centri di accoglienza. La soluzione politica di Tajani, ingressi autorizzati dai paesi che riprenderanno i clandestini. Ancora nel centro pagina, che il reddito venga nei campi. Il ministro Lollobrigida servono lavoratori in agricoltura e allevamento. Montagne killer, quattro vittime in 24 ore. Madre travolta da valanga, mentre le figlie gareggiano nel taglio laterale l'intelligenza artificiale. Salvini contro il garante esagerato bloccare chat GPT. A New York sale la tensione, Trump già scalda la piazza, domani sarà in tribunale. Ancora sempre nel taglio laterale, allarme Ultras del Feyenoord. Paura dei negozianti vanno tenuti lontano dal centro storico. Dal tempo, uno sguardo anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, schiforme contro la buona fede, niente casellario o giudiziario per i candidati. Arriva la legge spazza onesti, condannati nascosti nelle liste. Ancora il fatto economico sempre nel centro pagina. Le commesse di 6 PEM per il gas liquido di Putin. Nel taglio alto invece il governo lo rivede, sull'energia e fondi alle imprese, confindustria, le mani sul PNRR, ecco i lavori che saranno cancellati. Inchiesta Mediapart, sempre nel taglio alto. Il ministro della difesa di Letaniao e Bron, la roccaforte suprematista di Ben Gvir, il falco israeliano. Dal Fatto Quotidiano, uno sguardo anche alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, dopo Auto e Green, l'altra battaglia con Bruxelles, a salvare le fabbriche del nord, è stato il nucleare francese. A dispetto di proclami e desideri dell'Unione Europea, il fabbisogno di energia delle regioni settentrionali è stato coperto al 14% dalle rinnovabili e 41 dal gas. L'Atomo di Parigi è garantito il 12%, stabilizzando i prezzi e livellando i picchi. Nel centro pagina, la RAI la fa giusta, sbugiarda gli amici di Battisti. Ancora nel centro pagina, da AstraZeneca, 30 milioni a medici ed editori. L'azienda anglo-svedese, nei due anni di Covid, ha destinato al nostro paese ingenti fondi, non soltanto per la ricerca e per lo sviluppo, oppure per la sovvenzione specialisti, università e testate, guarda caso, proprio ai provaccini. Ancora cristiani nel vecchio continente, vandalismi, incendi ed aggressioni, 500 crimini d'odio contro chi ha fede. Come sempre, prima di chiudere, uno sguardo anche al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, tutto concentrato sulla vittoria, sorpresa del Milan ieri sera al Maradona. Milan da campioni, clamoroso 4-0 a Napoli, ora la Champions, Super Leao, Magico Diaz, Tonali unico e Rosso Neri avvisano la capolista in vista dei quarti. Lite, Tramaldini e Spalletti. Inter al Bivio nel taglio laterale ed è pronto Kivu, De Zerbi o Conte per il futuro. Avanzano Sarnie e Murigno, Eurocapitale, scatto Lazio, riscatto della Roma. MotoGP nel fondo pagina in Argentina.